Siamo stati coinvolti così e anche un po' abbiamo promosso l'iniziativa con le associazioni presenti, avendo uno sguardo sul futuro e soprattutto con l'idea di fare rete, di mettere insieme le associazioni territoriali cittadine del Vittoriese su un tema a noi caro che è quello dell'abitare. La cosa più interessante è che c'è un progetto, quello del Centro Sociale Piazzoni, che potrebbe concretizzarsi, ancora non sappiamo se è possibile, però ci sono buone potenzialità e questo permetterebbe un lavoro sinergico di rete delle associazioni, ma soprattutto l'istituzione di un caregiver che potrebbe fungere non solo da sostegno e cura agli ospiti della struttura del Piazzoni, ma anche un po' per l'intero quartiere, dando vita a una nuova forma di sostegno alla comunità.